Stiamo in diretta? Siamo in diretta? Sì. Buongiorno a tutto il popolo. Buongiorno e una buona domenica. Noi già siamo operativi. Ci troviamo a Rionevalla, è qua da Bellino, per fare questa grande Ave Maria per Cristian e Gerard, che ieri sera abbiamo fatto una grande serenata. Con noi c'è il nostro Alessandro Fungillo, un grande amico nostro che fa parte del nostro staff. Fa parte del nostro staff. La cosa bella che mi fa piacere è che ieri c'è stata questa grande serenata. Io voglio dare appuntamento e penso che è tutto confermato. Il giorno 25 settembre Mugnano del Cardinale, con Alessandro e Felice Conte. Ci sarà una grande serata. Grazie alla grande organizzazione di Gigino, Alfonso e alla grande organizzazione di Stefano Scafuri, che manda un forte bacio. Andiamo un po' dentro. Un saluto per Pietro Annune. Pietro, un bacione. Stiamo aspettando che si monda. Magari... Andiamo a vedere se stanno montando. Adesso la vieni. Andiamo, andiamo. Ci siamo. Lui è il nostro tecnico. Francesco Sanseverino. Aspetto Sanseverino. Stiamo montando per fare la mia maria. La mia maria, la mia sposa, Cristian e Gerardo. Tutto operativo, ragazzi. Si inizia dalla mattina. Lei come si sente? Ma possiamo fare un minato con questi luoghi qui. Stiamo in un luogo dove si vanno in grado. Ragazzi, a frappè. A tra poco. Grazie.